Il teatro sperimentale, ultimo giorno di prova in questo teatro per la cambiata di matrimonio. Tre allieve del Conservatorio Rossini di Pesaro. Maria Luci. Il Conservatorio ci ha dato una bellissima opportunità, sicuramente molto formativa per ognuno di noi. Giada ha il ruolo di maestro collaboratore, quindi accompagna i cantanti durante le prove e sempre al pianoforte. Invece sia io che Silvia siamo maestri di palcoscenico a destra e a sinistra, quindi ci occupiamo di tutte le entrate dei cantanti, dei personaggi e quindi aiutiamo la bella riuscita dello spettacolo. È un'esperienza bellissima, sicuramente, perché questa opportunità non è che capita tutti i giorni e soprattutto vedere cosa un domani potremmo fare. È faticoso. Bisogna conoscere alla perfezione lo spartito. Assolutamente sì. È la prima esperienza anche per te di questo tipo. Siamo alle prime armi, è un mondo del tutto nuovo, un'esperienza anche piuttosto complicata, perché si tratta di mettere insieme musica, scenografia, insomma molte cose tutte insieme, quindi sicuramente è un'esperienza che ci farà crescere molto. È un giudizio sull'opera che state preparando? Bella, piace.